Buonasera a Bandecchi, abbiamo visto che lei ha aggredito un consigliere comunale in pratica. Beh, in quel gesto non ci vedo un'aggressione. Io personalmente, se avessi potuto agire da uomo normale che ha fatto il baracadudista, una volta fatti saltare i denti, gli avrei anche disarticolato le scapole e bruschettato il suo cazzo di fegatino. Azione e reazione. Se tu mi fai trovare la panchina pisciata o cacata, con una destata ti faccio orientare la mandibola nella nuca. Perché sono per l'ubbedienza. Se non ubbedisci, non com'erai mai un cazzo nella vita. Tutte cose che puoi imparare nella mia università. Ho fatto un'università e non mi devi cacare il cazzo se faccio un'università. Infatti lei ha fondato l'università telematica Nicolò Cusano, giusto? Dove c'è la facoltà di non rispondere a quella cazzo di Gestapo, che è la finanza, che mi viene a sequestrare 21 milioni. Ma vaffanculo! Io ho 85 anni. Non ho 85 anni, mi sono sbagliato. Non ho 85 anni. Se mi vuoi prendere per il culo perché ho perso un non, mi hai rotto il cazzo. Cazzo, ne ho 62, inquadrami, ne ho 62, sto parecchio bene. Allora, lo vedi questo microfono? È un microfono, va bene, sì. Lo vedi? Va a fare il culo. No, 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 non può piegare. Lo vedi? È fortissimo. Lo vedi? Ma cosa ha fatto? Cazzo, io guadagno 4 milioni all'anno, di tasse ne pago due e un milione vai a fare in culo, lo spendo in microfoni. No, però stia calmo. Va bene? Sono cazzi miei come li spendo i soldi. Ma va bene, ma... Io ho fatto il parà, paracadutista, e come parà non ho mai aperto un paracadute. Come no? Testa di cazzo, mi sono sempre fermato, aggrappando me i randi. Quattro inquadrami. Mi sono sveglio, intelligente, cattivo, e tu finanzano, mi devi rompere i coglioni. Ma si ha fatto una certa... Se no finisci come questa piantana. Appure la gente... No, piantana, porca piantana. Lei è pazzo, scusate. Questa piantana, vai a fare in culo. No, ma lei è pazzo. 100 mila euro di piantana all'anno. Pure, pure. Ma me li posso permettere, perché guadagno 4 milioni di euro e c'è pure le televisioni e le radio. È vero, anche delle radio. Che sono i miei punti di forza, è come una pistola. Cosa? In che senso? Ma non la devo usare per forza, ma tu sappi che io ce l'ho. Alla radio. E te lo posso sparare addosso, caro ministro, io non ti chiedo niente, ma sappi che se mi tratti di merda, io divento stronzo. Azione e reazione. Non è una... È la democrazia. Ma non è la democrazia. Lo insegno anche all'università. Cosa? Alla facoltà di scienze della comunicazione a Capocciato. Democrazia. Ma non è democrazia. Ti dico di sì. Non è quella, non è democrazia. Non mi interrompere, ti ho detto di sì. Però guardi che no, non è... Prova a dire un'altra volta no e ti faccio far sfideri questa cazzo. No, 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 stia calmo, stia calmo. Ma hai rotto il cazzo. Ma lei è pazzo così. 50.000 euro di sedia. Io guadagno 4 milioni. Tu li pago di tasse. Sì. Quant'era che spendeva un microfono? Non lo so, un milione. Più 100.000 di piantane, 50.000 di sedia. Vabbè, spende un milione e 150.000 e inquadrami. Sì, sì, va bene. Perché io sono sveglio e non voglio vedere le panchine pisciate o cacate. Abbiamo capito. E ora mi sono rotto il cazzo e me ne vado. Ma perché? Perché sono cazzi miei. Non lo certo voglio dire, vengo a te. Che cosa ti dico? Questa è la democrazia. Non è democrazia. Faccio il cazzo che voglio. Anche nella composizione delle frasi. Nessuno mi deve rompere i coglioni. Ma che discorso è? È il discorso che farò alle camere. Quando? Tra due anni. No. Quando diventerò presidente del Consiglio. No, speriamoci. E allora sì che spariranno le panchine pisciate e cacate.